Grazie ragazzi, tu dun tu dun tu, grazie ragazzi, tu dun tu dun tu, è stato davvero un Bologna eccezionale, ma oggi in realtà abbiamo visto il Bologna o era l'Atalanta con la maglia bianca, ma l'Atalanta quella vera, signori è stato un Bologna eccezionale, ha giocato una partita straordinaria a Bergamo, una partita difficile contro una squadra forte come l'Atalanta in corsa per qualificarsi per la Champions League, allora pensiamo al secondo gol, al terzo gol il secondo gol convalidato di Orsolini, l'azione come ripartita, palla conquistata, immediato passaggio di Zirche, lungo, Orsolini che entra, si porta la palla sul sinistro, si accentra gol, 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 esatta, un'azione, allora la finalizzazione simile al gol di Sansone, ma tutta l'azione è diversa e nel gol di Sansone la palla è arrivata attraverso tanti passaggi a Sansone solo davanti al portiere, fantastico Barov, avete visto com'è esultato? Io sono estasiato, sono estasiato come tutti i tifosi del Bologna, sono estasiati come i tantissimi che sono andati fino a Bergamo oggi per essere vicini ai ragazzi, sono estasiato come sicuramente lo è Tiago Motta che secondo me neanche lui si aspettava una cosa del genere, si aspettava la possibilità di costruire una squadra così, mi viene da dire, vicina alla perfezione, esagerato, ma ragazzi se il secondo gol oggi l'avesse fatto il Napoli lo facevano vedere miliardi di volte in tutte le tv, in Europa, il Napoli la squadra, il secondo gol del Bologna è stato un gol straordinario, riguardatevi il passaggio di Zirk perché è stato straordinario, complimenti a Tiago Motta, complimenti a tutti i ragazzi, complimenti anche a quelli che entrano a 10 minuti dalla fine e danno l'anima, è una squadra unita, vedete non mi vengono le parole, non mi vengono le parole, 43 punti in piena lotta per l'Europa, ma a questo punto non è un sogno, è un obiettivo, perché con una squadra che gioca in questo modo è davvero diventato un obiettivo. Sabato prossimo arriva il Milan, il povero Orso non ci sarà, ma ragazzi che sfiga, segna il gol, esulta, non si accorge che fuori gioco, si toglie la maglietta, vabbè lasciamo perdere, fortunatamente si è rifatto, ma non mi preoccupo, mi dispiace che non ci sia Orso contro il Milan, ma ci sarà qualcun altro e francamente in questo Bologna nessuno fa rimpiangere, nessuno. Forza Bologna sempre, è una Pasqua di felicità per noi tifosi rosso-blu.